Arriva al minimo a massimo 400 stones Quanto? Massimo 400, non di meno No, mi devo rovinare, io mi devo rovinare Mi devo rovinare Mi devo rovinare Cosa cazzo c'entrano? Vabbè, è GEDA, è GEDA C'è no! C'è no! Eccolo! Che cazzo c'entrano? Beh, l'hai piaciuto il video, non è più in tre secondi se Eh, come tu quando nel video di Ancora sto freezer, basta, l'ho trovato 20 volte Mamma mia, la prima volta che trovo Zeno Siamo praticamente adesso tutti quanti al sostanzialo Eccolo! Eccolo, se vedi questo bok fai Eccolo! Eccolo! Ma gli Zeno erano due E anche se il Max saranno due Mi ho fatto bene a registrare comunque Vabbè poi Beh, questo lo piazzo off camera Ancora! Minchia! Ma secondo te ti fai anche la La feed red o no? Io finisco il giro a sto punto Eh, il video non può mica durare un minuto e ventitré secondi Oppure questi, veramente Give me to me Wiz animation No, Wiz sta solo se ci sta Wiz e Beerus Per San 3, Per San God Non è vero Allora, quando sta Wiz e Beerus mi sa è garantito Non lo so, io l'ho trovato, l'ho trovato mi sa che non solo Beerus Ma che sta solo, solo Beerus No, stavano altri, poi Beerus Dai, un SSR chiedo Eccolo? Lassa sto coso, ho tornato dieci volte pure io Tu e Rosè siete proprio l'unica cosa Ma ti giuro Ma non devo andare con la free Ah, era questa la Signatured Alla fine Vabbè, il video Facciamo il prezzo Il video pur finisce qui Ed è stato un successone, certo Quindi due minuti e trenta secondi Senza manco una intro Però Un minuto Cioè, un video è comunque un video Ciao